No, la mia paura era solo per il vescovo, quello l'ha fatto per me, per Don Rinaldo. Guarda il cacciatore, che bello, con i buchi nel naso, guarda, che bello, guarda le macchie del cane, le macchioline, quante macchioline, guarda, guarda, che belle queste cose. Volevo un confetto, un confetto, sì, per un confetto c'è bisogno di tre ore per pigliare un confetto, fammi lei come pigli un confetto tu. No, vabbè, fammi lei come pigli un confetto, non so se non ti voglio lo confetto, come si piglia un confetto? Com'è? C'è bisogno di tre ore? No? Allora perché cosa vuoi fare? Non capisci la situazione mia, non vuoi capire.